di presentare il prossimo gruppo vorrei ringraziare pubblicamente tutto il servizio organizzativo tutti i tecnici che si adoperano per garantire passaggi rapidi da un gruppo all'altro in meno di un quarto d'ora ogni volta e sono tempi che non si verificano in altri festival ne avrete certamente avuto la conferma voi stessi e adesso il piatto finale di questa prima serata dall'undicesima edizione di Estival Jazz Lugano è una band che ha migliaia di fans sparsi un po' ovunque è una delle band blues più popolari i suoi spettacoli si trasformano sempre in straordinari e coinvolgentissimi happening signori e signori a Estival Jazz Lugano The Luther Allison Band Special Guest Bernard Allison Luther Allison Band are you all ready out there? The Luther Allison Band Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. ? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Don't want me no more Now look at here I'm gonna take the day off baby Stay home and get off into your head Sit down and talk to you baby Trying to make you understand Every word I gotta say I think I've done more for you baby 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 Sì, 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 sì. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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